La legge di stabilità arriva in Senato perché la Lega Nord continua la battaglia contro questo provvedimento del governo Renzi? Perché questa legge di stabilità va esattamente contro i cittadini e questo noi non lo tolleriamo perché faccio solo l'esempio del fatto che ci sia un'ipotesi nella clausola di salvaguardia dove mi va a aumentare l'IVA, dove mi va a aumentare le imposte indirette questa qua vuol dire un governo miope che non ha la lungimiranza effettivamente di un'azione efficace che crei nuovamente quei posti di lavoro che finora sono stati persi perché è intollerabile che un governo faccia finta di dare con una mano e poi toglie dall'altra un solo pensare di aumentare l'IVA dal 22 attuale al 24 e mezzo vuol dire ammazzare la nostra economia la nostra battaglia sarà fortissima perché un governo serio deve pensare allo sviluppo del paese non solo pensare a sole poche cose di benessere momentane e basta un vero governo deve avere la lungimiranza politica di fare il bene del nostro paese